Un abbraccio, uno scambio di doni dall'alto valore simbolico, una promessa e un invito ufficiale. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, è stato ricevuto questa mattina in Vaticano da Papa Francesco. Un incontro durato poco più di un'ora. Il Santo Padre ha donato una forma di bronzo con la scritta «Al deserto diventerà un giardino», mentre il regalo di Narendra Modi ha il valore di una promessa. Un candelabro d'argento accompagnato da un libro intitolato The Climate Climate che racchiude i buoni propositi dell'India per l'ambiente, tema di grande attualità vista la concomitanza con il G20 e la prossima COP26 in programma a Glasgow. Prima di congedarsi, il premier indiano ha invitato ufficialmente il Papa a recarsi in visita in India e lo ha comunicato al mondo attraverso il suo canale Twitter. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme al Papa e l'ho invitato a venire in India.